Carissimi amici di Barletta, un buon pomeriggio, ora sono l'una, dobbiamo andare a fare la pappa, il nostro falò sta crescendo, sta crescendo, sta crescendo. Per quanto riguarda qualche amico che ha bisogno di svuotare qualcosa, noi abbiamo trovato un ragazzo che è senza lavoro, che è disponibile con il suo motocarro, l'importante è che dà la benzina guagnola, se vi va, se non vi va lasciate stare come stanno le cose, noi aiutiamo a chi veramente ha bisogno di essere aiutato. Buona giornata a tutti, Barletta e Avest, ciao!